Ma diciamo che questa è stata un po' la mia pecca all'inizio, che comunque sappiamo che non era il top della forma, però credo che adesso la forma c'è, l'ho recuperata, quindi non credo che sia questo il problema. Magari domenica comunque è stata una partita difficile dove abbiamo fatto un po' tutti fatica, ma questo non sta a me decidere al mister se bisogna cambiare qualcosa. Io credo che comunque quello che abbiamo fatto finora si è visto, comunque abbiamo fatto delle ottime prestazioni. Mettendo che questa qui di domenica magari ci è andata male, che comunque abbiamo affrontato un'ottima squadra. Abbiamo fatto degli errori ed è giusto analizzarli e capire dove dobbiamo migliorare. Sì, loro stanno attraversando un buon momento, però noi comunque dobbiamo dare una dimostrazione, e comunque ci siamo anche noi, a prescindere dalla prestazione di domenica. È un modo per rifarci, giochiamo in casa e quindi dobbiamo dare un segnale, tutti uniti dobbiamo giocarci questa partita come abbiamo fatto finora. Le difficoltà ci sono in tutte le partite, non ti so dire la difficoltà quanto può essere, anche se dipende da noi comunque, cioè affrontare la partita nel migliore dei modi partendo subito a mille come abbiamo sempre fatto e cercare di mettere in difficoltà loro. Vedere su Mare che magari sta bene, che entra e fa bene, può essere per te magari un stimolo? No, perché comunque chi fa bene è giusto che giochi, è ovvio che siamo un gruppo, ci vuole la competizione, cioè fa sempre bene, quindi se lui sta bene e dimostra di giocare è giusto che giochi su Mare come chiunque altro.